Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi altro video, altra guida a un modulo che ho avuto modo di provare e devo dire mi ha sorpreso, ho iniziato a avere l'idea di testarlo quando mi è capitato che a inizio game non mi andavo a switchare su quello che è la mia formazione abituale e dico se vuoi si dicevo cavolo ma io sto giocando con questo modulo? Beh, devo dire che non è male quindi ho avuto l'idea di sperimentarlo, sto parlando del 4-5-1, classico modulo che utilizziamo per ibridare ma che secondo me ci nasconde in realtà delle potenzialità appunto nascoste quindi andiamo a vedere come lo sto giocando e andiamo a vedere quelle che sono anche le istruzioni insieme alle tattiche quindi cambio di scena, classicone, e ci ritroviamo immediatamente nella schermata in game vedete come l'ho settato con Renato Sanchez a mantenere la baracca lì in zona centrale con Neymar e Rashford larghi, con Mbappé e Gullit con licenza di uccidere e ovviamente Cristiano Ronaldo lì davanti a portare avanti la baracca per quanto riguarda le tattiche ragazzi, molto 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 standard qui 2-2 equilibrato in difesa perché, ve l'ho spiegato un milione di volte io voglio essere libero di potermi gestire la manovra di difesa se voglio uscire alto voglio uscire alto, se voglio difendermi basso voglio difendermi basso posso difendermi basso, devo avere io la libertà di poter scegliere il mio destino quindi 5-5 mi permette di avere una squadra non troppo bassa né troppo alta con un'ampiezza giusta per evitare che si creano buchi per eventuali filtranti e di conseguenza mi trovo bene per quanto riguarda lo stile d'attacco, anche qui equilibrato perché essendo questo un modulo che va giocato, almeno secondo me con un grosso possesso palla nella zona centrale, un po' per frustrare il vostro avversario e cercare l'imbucata di quelle che sono le vostre ali e i vostri giocatori più offensivi appunto ha bisogno di un certo tipo di gioco per cui con equilibrato mi garantisco sia la possibilità di gestire il pallone sia la possibilità di poter velocizzare quando vedo che si sono aperti i buchi in seguito alla gestione del pallone stesso per cui equilibrato per questo motivo con ampiezza 5 e giocatori in area 5 mi permetto di avere anche qui una squadra né troppo larga né troppo stretta e con un discreto numero di giocatori in area questo perché andando a vedere come si presenta questo modulo è chiaro che Ronaldo da solo in area poco può fare ed è evidente che con più giocatori in area si andrebbe a portare via proprio quello che è il succo e il nocciolo di questo modulo ossia gli scambi per cercare poi di portare quanti più giocatori in area possibile ma di portare, non di far trovare i giocatori lì già in area perché noi in area ci vogliamo arrivare con calma e con pazienza trascinando quanti più effettivi possibili per quanto riguarda le istruzioni abbiamo delle novità rispetto al solito vabbè, i difensori chiaramente sono normali ma per quanto riguarda i terzini io qui lascio attacco equilibrato e tipo di inserimento utilizzo sovrapponiti su entrambi cosa vuol dire sovrapponiti? non vuol dire che i terzini partecipano all'attacco ogni azione però il tipo di inserimento che faranno sarà esattamente quello della sovrapposizione ossia passeranno dietro il vostro esterno che magari ti ne valla qualora chiamati in causa anche quando magari vi andate a chiamare voi l'inserimento quindi il giocatore non farà quel movimento magari a sorpassarvi o a tagliare dentro ma vi passerà sempre a largo cercando di crearvi la superiorità numerica per quanto riguarda invece il buon Renato Sanchez quindi diciamo il mediano abbiamo restato in attacco e copertura al centro per quello che diciamo deve un po' andare a reggere la baracca anche in maniera un po' più isolata perché questo comunque è un modulo abbastanza offensivo ma che se giocato bene in maniera manuale con l'utilizzo dei giocatori giusti fidatevi che riuscite anche a difendere bene di fatti è fondamentale il ruolo sia di quelli che sono gli esterni che dei due giocatori un po' più avanzati chiamiamoli COC ovviamente per quanto riguarda gli esterni vado a utilizzare taglia dentro ed entra in area per il cross su entrambi questo perché mi devono portare via gli uomini per favorire quelli che sono gli inserimenti dei due COC in particolare due COC che hanno rimane avanti ed entra in area al cross per il buon bappé mentre per quanto riguarda Gullit abbiamo supporto in difesa base e entra in area per il cross questo perché diciamo che Gullit in qualche modo deve un po' schiacciarsi alle volte sulla linea di Renato Sanchez per dare una mano si potrebbe mettere anche un rientra in difesa se non difendete tanto in maniera manuale però deve essere anche lì pronto a minacciare l'avversario diciamo che in fase difensiva questo potrebbe sembrare un 4-2-3-1 così come anche in fase offensiva ed è un modulo molto simile a un altro il 4-1-4-1 che vi porterò successivamente quindi per quanto riguarda invece a completare il reparto offensivo abbiamo Cristiano Ronaldo al quale diamo rimani centrale e rimani avanti perché deve essere il nostro riferimento che magari porta via quelli che sono i difensori centrali appunto dalla possibilità di potersi allargare a coprire le imbucate dei nostri esterni e vi dirò, vi ripeto, è un modulo che secondo me è sorprendente è l'aggettivo giusto sorprendente come infatti rimango sorpreso ogni volta che non lo cambio e dico ma io ho cambiato modulo ho cambiato modulo all'inizio della partita e sdenio ho chiuso il gas quando andiamo in vacanza e invece mi ritrovo effettivamente a condurre comunque delle manovre ottime e di fatti per questo motivo vi ripeto ho deciso di provarlo e l'ho trovato veramente buono e inoltre questo è un modulo che utilizza ad esempio anche il buon Nicolas e l'ha utilizzato anche nella sua forma 4-5-1-2 che magari andremo a vedere in un altro video io sto cercando con questi video di coprire un po' tutti quelli che sono i moduli secondo me utilizzabili e sapete come la penso per me sono utilizzabili un po' tutti i moduli l'importante è saper trovare quella che è la vostra identità di gioco se voi vi trovate bene con un modulo non è detto che un altro si trovi bene non è detto che quel modulo è valido o non è valido a prescindere bisogna testarli quindi questa è la mia idea di 4-5-1 con la quale mi trovo abbastanza bene raga fatemi sapere che ne pensate vi ricordo like e commento che sono cose da youtuber che mi servono iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo bene e mi fa strapiacere ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola trovate tutte le info in descrizione è nulla ragazzi io vi saluto e vi auguro buona giornata ciao 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 ciao